L'hotel Lido a Pastignano L'hotel Lido a Pastignano Può ospitare fino a 400 posti e propone specialità legate ai prodotti del lago e piatti internazionali Le sale interne sono ideale anche per banchetti, ricevimenti e occasioni speciali Dalle grandi vetrate del ristorante si gode lo splendido panorama dell'isola maggiore La clientela dell'hotel Lido potrà inoltre usufruire di un giardino con piscina all'aperto, di idromassaggio, solarium e in estate di una vivace animazione